Ricostruzione dell'infortunio è una cosa importante, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono obbligati a farla, è una parte integrante delle indagini, noi periti di parte vediamo, perché vediamo? Perché noi non dobbiamo ricostruire un fatto e darlo in pasto al giudice, noi dobbiamo confutare le indagini, dobbiamo dire le indagini non ci convincono per questo e quello e quell'altro, quindi ci conviene ricostruire l'infortunio? Sì, ci conviene comunicarlo? Non si sa, vediamo, ci sono dei luoghi, dei casi in cui conviene dirlo, dei casi dove non conviene, ci sono dei casi dove arrivo, che le indagini sono già concluse, la ricostruzione è già fatta, dei casi dove non c'è nessuno e nessuno sa ricostruire l'infortunio, perché se non c'è nessuno, un paio di mesi fa cade un oggetto pesante, di 150 kg addosso all'operaio, l'operaio mezzo scassato esce con i gomiti proprio sdraiato per terra così fuori dal capannone, perché nel capannone non c'è nessuno, nessuno, i vicini di capannone avvertono le autorità e arrivano con l'elicottero, tutto il cinema che voi potete immaginare, due giorni dopo è uscito dall'ospedale, per fortuna non aveva niente di che, ma la telefonata di uno che si trascina con i gomiti ed è da solo ha generato un pandemonio, ok? Come si fa a ricostruire un infortunio del genere? È un mistero, perché il racconto della vittima è che mi è caduto l'oggetto pesante addosso, il modo di lavorare di questa operazione è di alzare l'oggetto con un gancio di 20-30 cm meno di una spanna, girarlo e poi riaproggiarlo sul tavolino, guardi per terra e non c'è nessuna scheggia per terra, il pavimento è perfetto, non è rovinato dalla caduta dell'oggetto pesante, è molto pesante, avrebbe dovuto rovinare il pavimento, non dico bucarlo, ma almeno rovinarlo, potrebbe essere che andando indietro è inciampato e si è fatto male, potrebbe essere, nessuno lo saprà che non c'è una telecamera, non c'è un testimone, cosa diranno le indagini? Lo scopriremo, come si fa a ricostruire un infortunio del genere? Si fanno delle ipotesi basate su della documentazione che puoi fare a livello fotografico, perché non c'è nessuno, è una piccola impresa dove c'è un operaio solo, manca tutto, ok? Giusto per farvi un esempio pratico.